Queste borgate marinare, come tanti comuni limitrofi a Palermo, avevano la loro tonnara. Infatti a Sant'Eralmo c'era una tonnara all'acqua santa, non proprio diciamo tradizionalmente nella zona della spiaggia o della piazza, ma esattamente nel luogo dove adesso c'è l'ingresso dei cantieri navali c'era una tonnara, l'altonara San Giorgio, che tradizionalmente veniva considerata dall'acqua santa ancorché ricadeva nella cosiddetta zona del Molo o del Piano del Luciardone. La Renella aveva la sua tonnara, la Vergine Maria aveva la sua tonnara, l'altonara Bordonare e la Mondella aveva la sua tonnara. Quindi diciamo sono tutte caratteristiche di borgate dove i nuclei principali sono stati formati dalle case dei pescatori che poi così con la cultura della pesca del tonno hanno incrementato la popolazione e le abitazioni attorno a cui poi si sono sviluppate in altre attività indotte alle tonnare la vita commerciale e sociale delle borgate.